E' Palmerino Belardo il nuovo amministratore di Alba. Palmerino succede a Luigi Giampaolino, da tempo in rotta con il Comune. Ad annunciarlo la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese. Era venuto meno il rapporto di fiducia fra il Comune e l'amministratore unico, afferma la sindaca. Il mancato pagamento degli stipendi dei dipendenti di Alba rappresenta solo l'ultimo episodio di un rapporto che si era profondamente lacerato e che ha creato non pochi problemi. Ora spero che si potrà lavorare nel rispetto delle parti e in un clima di piena collaborazione. L'attesa dopo l'erogazione degli stipendi avvenuta ieri ora è per l'approvazione in Consiglio Comunale dei nuovi contratti di servizio, la cui data non è stata ancora resa nota.